Ciao, Joseph! Ciao, ciao! Come stai? Andiamo bene. Bene, bene, tutto bene. Dove vai? Andiamo a fare questo bel lancetto? Andiamo a volare. Ma chi è quello? Tuo fratello. Ciao, fratello! Ok, ragazzo, andiamo a volare. Ciao! Ci siamo, Joseph! Yeah! Yeah! Woohoo! Yeah! Ahah! Woohoo! Yeah! Come on, eh? Come on! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!